Eccolo, certo che non ti mostrano, però non mi sembra un... A me non mi piace per niente questo, è furbo, e poi ci ha fregato. Il fatto nuovo è che il sospetto ha ricevuto delle minacce, quindi c'è bisogno di una scorta. Noi. Esatto, voi due. Sì, giusto. Ci voglia pure per il culo, stronzo. Hai permesso? Buonasera. Ma che cazzo c'è da conoscere? Che cazzo c'è da conoscere? È un terrorista, va bene, un presunto terrorista, e me l'hai presentato come un amico. Perché mi seguiti? Non c'è nessuno che mi minaccia. Non è così, Aliz, devi fidare di noi. No, non mi fido più ora. Oh, guarda, Aliz, te lo dico l'ultima volta, sali in macchina. Io voglio capire chi è questo cuore. Io voglio capire cosa c'entra in questa storia, perché per me è importante. Questa è la mia vita. Se ti va bene, ti va bene, sono niente. Io voglio capire cosa c'entra in questa storia.